È una bella opportunità per i cremonesi di vedere questi quadri. È una mostra di ritratti, ritratti del Novecento in modo particolare, divisi in quattro sezioni. In un modo anche un po' familiare ti accoglie questa esposizione. Abbiamo l'angolo delle madri, l'angolo degli autoritratti, un angolo appunto divisi che sono appunto personaggi cremonesi, che hanno diciamo proprio vissuto nella realtà cremonese. Ed è stata veramente un'emozione anche scoprire le storie che ci sono dietro questi personaggi, la storia della famiglia Screm, la storia in questo caso appunto anche del Piero Boschi, di questo avvocato così importante, oppure anche scoprire appunto il momento in cui la moglie di Antonio Rizzi dona dei quadri al museo pensando appunto di fare una cosa gradita nel momento in cui il museo di Firenze invece vuole l'ultimo autoritratto del pittore Antonio Rizzi. Ecco, sono tutte scoperte che sono state fatte appunto durante l'esposizione. Il mio compito però, abbiamo lavorato in sinergia, è stato quello di consultare le carte, anche delle donazioni. Per cui ad esempio scoprire che la signora Elide Ventura Cappelletti deve andare in casa di cura e prima di entrare in casa di cura dona questo quadro al museo civico, per cui è una storia anche che ci ha commosso questa. Poi è chiaro che la mostra ha, diciamo, dei veri e propri outsider, nel senso che sono pittori importanti, Antonio Rizzi, Emilio Rizzi, Carlo Vittori, un Bragadini, anche se diciamo un'unica testimonianza, ecco, però dei quadri importanti e la ricerca archivistica ha messo in luce appunto l'importanza di questo fondo dei depositi della Pinacoteca alla Ponzone. Ai Cremonesi appunto diciamo che in effetti è un'occasione per poter vedere quadri che erano nei depositi per poter vedere dei volti familiari, per poter scoprire anche con orgoglio la loro città.